ormai grazie a tg kiwi sono diventata una cultrice della musica urban italiana e quindi anche oggi ne parleremo con icy sub zero ma come sempre sigla sono alessandra milanovic e ti do il benvenuto a tg kiwi il podcast a tema musica cinema e talent più ascoltato in italia amici ben trovati come state anche oggi ci tuffiamo nella scena urban italiana e parliamo del rapper che sta conquistando questo 2024 con la sua musica e il suo stile proprio quest'anno dopo aver dominato le classifiche con i can fly ed aver infiammato l'estate con ghetto love il featuring con clara entrambi brani ricordiamo certificati disco d'oro ora i si è pronto a tornare con un nuovo singolo che si intitola vergine maria che uscirà come sempre questo venerdì questo terzo brano segna un ulteriore passo in avanti per l'artista che si è imposto come uno dei nomi simbolo della nuova generazione rap in italia e parlando proprio della sua fama lo scorso weekend ai si è stato protagonista di un evento che ha testimoniato la sua enorme popolarità del momento la sua presenza allo store snipe di porta di roma attirato una folla così numerosa da bloccare intero centro commerciale l'evento che è stato organizzato in collaborazione con snipe questo brand di abbigamento streetwear lo ha scelto come nuovo testimone all'italiano e quindi quella è stata proprio un'occasione speciale per i fan che hanno avuto la possibilità non solo vabbè di scattare selfie autografi con l'artista ma hanno anche ricevuto un'anteprima esclusiva di vergine maria questo suo nuovo brano con cui ai si ha lasciato il pubblico in attesa del nuovo singolo ora ai si sub zero si sta distinguendo nella scena musicale non solo per i suoi banger ma anche per il messaggio che porta avanti proprio con la sua forte identità e il suo stile inconfondibile sta cercando di rappresentare un'intera generazione che lotta per mantenere la propria autenticità anche quando le influenze esterne in qualche modo minacciano di sottrargliela quindi un tema sicuramente attualissimo che non va mai dato per scontato la sua crescente visibilità è stata poi notata da snipes che ha deciso proprio di puntare tutto su di lui per la loro nuova campagna vedendo i nice un'icona di stile innovativa e anche sicuramente carismatica e quindi aspettando l'uscita di vergine maria che sarà questo venerdì quindi venerdì 15 novembre io vi do appuntamento alla prossima e vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questa puntata di tg kiwi ciao